Amici Trebi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di venerdì, che vedrà un graduale allontanamento verso l'est della bassa pressione formatasi sull'Italia, quindi il tempo in qualche modo tende a migliorare anche se variabilità resta alla parola d'ordine. Andiamo a controllare la nuvolosità attesa sull'Italia, inizialmente tante nuvole insisteranno ancora al nord, poi comincia a rasserenare sulle regioni di nord-ovest, invece nel pomeriggio altre nubi si formeranno nelle zone interne del centro-sud. E come precipitazioni qualche acquazione sarà ancora possibile a nord-est e poi appunto nelle ore pomerdiane si formeranno dei temporali e dei piovaschi nelle zone interne dell'Italia centrale e sul basso tirreno. Quindi in definitiva venerdì che vedrà sì un miglioramento del tempo, però ancora un po' di variabilità a nord-est, zone interne dell'Italia centrale, basso tirreno con degli acquazzoni, dalle altre parti aperture sempre più ampie e come temperature valori che cominciano a guadagnare qualche grado al centro-nord. Per sapere nel dettaglio cosa capiterà proprio da voi scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo.